Ciao ragazzi, Linux Blog. Oggi vediamo la funzione desktop remoto. Allora, avrete sicuramente sentito parlare di desktop remoto, ma magari non avete mai pensato che cosa sia. Allora, innanzitutto, breve introduzione. Consente di controllare il proprio computer, per esempio, dell'ufficio, dal computer di casa. Praticamente con un computer potete controllarne un altro. Allora, quando è che può esserci utile? Per esempio, quando siamo a casa di un amico e dobbiamo fare alcune cose, controllare alcune cose sul nostro computer che abbiamo prontamente lasciato acceso a casa nostra. Oppure, appunto, per controllare il computer dell'ufficio o qualche altra cosetta, no? Va bene, vediamo come procedere.